Un giorno per la festa, un altro per le attese. Angelo Antonio D'Agostino oggi e domani sarà piuttosto impegnato, come sempre d'altronde, dividendosi tra le sue mille vite ed attività. Il 10 giugno innanzitutto il presidente festeggia il suo compleanno e lo farà ovviamente circondato dall'affetto della sua bella famiglia. Con un post sulla pagina social dell'US Avellino, anche i suoi collaboratori hanno voluto omaggiarlo, scatenando come sempre una meriade di commenti ed auguri. In tanti sperano che per il compleanno si regali e regali alla piazza un bomber di razza, quel che serve per alimentare i suoi sogni e quelli dei tifosi. A proposito di speranze, come si diceva, domani sarà anche un giorno di attesa. Il numero uno del sodalizio bianco-verde nella veste di candidato allo scranno più alto della provincia di Avellino avrà a che fare con una nuova votazione. Per usare un termine calcistico e restare in tema, si andrà ai tempi supplementari dopo che il TAR di Salerno ha ordinato ad accoglimento del ricorso presentato proprio da D'Agostino, la ripetizione del voto che aveva visto vincitore Rizieri Buonopane per il solo candidato presidente e solo in alcuni comuni rientranti nelle fasce che comprendono i centri dove si sono verificate delle irregolarità. Insomma, la speranza di D'Agostino è di festeggiare due volte per due motivi evidentemente differenti. Il desiderio quando spegnerà la candelina questa sera resterà un segreto, certamente possiamo intuirlo, se mai fosse di stampo calcistico sarebbe però condiviso dalla gran parte degli irpini.